Un certo metri e poi spiana. Vai che è finita Jessica. Aspettate ragazzi. Siamo noi, siamo noi, siamo noi, siamo noi, prenda il gruppo a destra, sindacoli. Grazie Marco. E' finata Gianella Rosa. Adesso. Vai a te Jessica. Vai a te. 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 Aspetta. Vai. Vai. Bravi. 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 I leoni dentro di mano. Esco il giurismo. Bravi. Bravi. Guarda che qua in giro. Guarda. 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 an è dit 한�arcrazio il giro. Grazie. Comprientare. Complimenti Jessica. Un'impresa eccezionale. Grazie. Grazie. Sei contenta? Credissimo. Brava. Brava. Complimenti. Ricordiamo che per l'ES Roma c'è il leader Andrea Delito che riguarda il percorso medio. Gabri, un bel rientro. Sempre, grande, grazie a tutti, contentissima, grazie. Complimenti. È proprio esagerato, favore. Grandissima, quanti eravamo? Venti? Grande Fabio. È stato tipo pecore, gruppo compatto tipo pecore. Allora dai, facci una bella intervista, dai. Luigi, Luigi. Non pensavo di arrivare col gruppo per la prima volta, quindi sono veramente emozionata. Grazie a voi. Dai, basta un po' di allenamento, la prossima volta ci stacca a tutti. Grazie, fantastico. Complimenti. Grazie. Sono molto emozionata perché è la mia volta che ho avuto, è stato un po' di allenamento. Ho sentito il gruppo compatto, il gruppo compatto pensavo di non essere all'altezza, invece devo dire che finalmente dopo qua sono riuscita anch'io a essere con voi. Sono molto fissi e molto emozionata, soddisfatta. Grazie. Grazie Jessica, presentati, tu so che sei stato anche avuto un passato agonistico, se non... No, sei nuova... No, allora mi confondo con un altro, ok. Nuova di zecca nel panorama del ciclismo pedalato, ecco diciamo che sì. Scusate, 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 scusate. Allora, visto che Federica Pellevini è stata la portabandiera alle Olimpiadi adesso, la portabandiera della S Roma ciclismo ce l'avete come Jessica Magnano! E hai vinto pure la maglia nera, ma non perché sei la maglia nera in assoluto, perché forse non ci siamo capiti che tu adesso sei benvenuta nel club delle campionesse, Jessica Magnano! Grazie.